E' un foglio scritto per i punti della macelleria, la lettera è bianca, dove vuoi scrivere il cane? Allora, ecco, mi raccomando, Saverio, stai tranquillo, con l'educazione, vai, vai, allora, stiamo a far riconoscere, cercando di fare un luogo a noi, allora, dentro da te la lettera, vai, ma non si doveva, vai, caro, aspetta, prima la data, no? Fritto, fritto, quanto sarà? Quasi 1500, fritto le quasi 1500, lo sai tu quando eravamo? La nota mia, testate quasi 1500, io sto so, allora, caro, aspetta, no, non scrivere subito, Santissimo Savonarola, Santissimo, come sei bello, per esempio, come se volessimo dire, Santissimo Savonarola, ma scrivi come sei bello, no, no, Santissimo Savonarola, quanto ci piace, quanto ci piace, quanto ci piace, hanno i tuoi, ma io se mi metto in gioco la sinua seguace, l'esclamativo ce l'avranno? Niente, cosa? Allora, se non si sape che è stata esclamativo, mi ho scritto scusa le volgarità, è perfetto, eventuale, 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 se no, avevo scritto come dico io o no? No, eventuale, perché, se no, chi lo diceva, lui perché mi hanno scritto scusa le volgarità, se non c'è stata la volgarità, vuol dire che volevano essere volgari, non ci sono riusciti, ma poi c'è, stessi, no, non c'è volgarità, Volgarità eventuale, eventuale, appunto. Mo c'è chi ci spiega per bene, capito no? Va bene, perché questo fa così, Savonarola, vola, non c'è, vai, sono, Santissimo, 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 noi no, no, Lascia liberi Vitellozzo, lascia, lascia, potresti lasciare liberi Vitellozzo? Vitellozzo, si, e vuoi? Salutandomi indistintamente, Sbrigati, salutandomi indistintamente, i fratelli Caponi, che siamo noi, questa, apri una parente, apri una parente, dici, che siamo noi, i fratelli Caponi, Caponi, hai aperto la parente? Chiudila. Ecco fatto. Vuoi aggiungere qualcosa, tu, papà? Ma io se... Senza nulla a pretendere non c'è bisogno. In data a dire. Beh, va bene, poi si capisce. Va bene, si capisce.